Ehm, ciao! Non c'era bisogno che tu uccidessi nella lava? No, quello non era nel... Ma fa parte della ciao questo? Eh no, non è quello... Vabbè, comunque ci siamo andati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi non ho ancora voi, cioè quindi come vedete la mia skin è pallida. Quest'oggi come potete vedere siamo bloccati nel nether, come penso ci abbiate visto. Ho paura. Io sono nel nether, loco, nel nether. Il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a scappare da qui dentro. Il primo che riuscirà a scappare vincerà, ma una volta fuori combatteremo anche perché... Ecco, è una mano. Non devi combattere già da un... Niente. Bravo, molto bravo. Comunque il nostro obiettivo sarà quello di scappare e sostanzialmente combattere. E il tutto a partire da ora. Ciao, è molto bello. Ah, andiamo! Sì, sì, allora, io ti dico perché... Nico, 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 Nico. Che cosa vuoi? Scoppietti. Scoppietto? Ciao, stavo facendo scoppietto, però sistemato. Dicevo, dobbiamo... Stammi un attimo lontano qui con questo pezzo, lì. Ah! Comunque dicevo che so che qui vicino c'è una fortezza e un bastione che ho controllato con Locate che ci fosse. Ti si è spiato la mappa! Siccome sapevo che avresti detto questa cosa... È tutto memoria! Siccome sapevo che avresti detto questa cosa... Ho fatto soltanto col comando Locate, quindi so a quanta distanza sono e non so dove sono. È qui, è qui dietro di noi, l'ho vista. Cosa? C'è la fortezza, c'è la fortezza qua. Ok, la fortezza effettivamente era a 100 blocchi, infatti non so perché mi segni quella, prova bene. E invece il bastione era un pochino più lontano, tipo 400. Ma tu sai come si fa una overworld run? No, sto morendo da Lenderman! Davvero non lo sai? Sto morendo da Lenderman! Eeeh, mi dispiace. Ti sei studiata? No, però questo video l'avevo già fatto simile con Buddies, tipo un anno e passa fa, e mi ricordo. Ma se la Respor Anchor svanisce, cosa dobbiamo fare? Dovevi ricaricarla? Devi ricaricarla, certo, perché se finisce vuol dire che sei morto troppe volte, vuol dire che sei un fallito. E se non lo ricarico? Vuol dire che sei un fallito due volte. Non sono un fallito. Vuoi essere un fallito? Vuoi essere un fallito tu nella vita? Ma perché deve sempre esserci in mezzo un negozio 25? Tu non fai lì, tu dico no, tu lo sei, scusami. No, allora tu mi hai detto, se si scarica l'ancora, cosa succede? Che sei un fallito, però se non la fai scaricare non sei un fallito. E tu lo stai a prescindere? Non hai capito il gioco. Te l'ho fatto? No, non te lo do al gelato, l'hai mangiato prima. Come si sapevo? Perché tu mi hai detto che stai mangiando il gelato, poi mi hai detto di andare a far la spesa. Quindi mi hai abbandonato mentre mangiare il gelato. Bravo, però mi hai abbandonato. Tu eri ritardo? Io ero in ritardo di 5 minuti. 20 minuti. Eeeh, ma cosa dici? Sei arrivato qua alle 5 e 20. Sei un falso, dici solo bagianate nella tua life, mamma mia. In my life. In the style of my life, I took her home. Non quella canzone. No, non voglio quella. Non credo di conoscerla. Come no? Non ti vergogni? Mi sai che non la conosco. Ma mi spieghi tu dove stai andando senza un piccone? Ci sono 5 di un uito a scalato. No, ma sì. Ma io intendo senza un piccone. Perché sei entrato in una fortezza? Diamanti? Ci credo. Urca miseria, urca miseria. Scopo, scopo, scopo. L'ho coiuto. Ho anche il diamanti. Ecco una mano. Dammi una mano. E' morto da un mio scheletone. Allora, parliamone. Un mio scheletone. Parliamone. Ho visto una cosa che potrebbe tornarmi comoda. Cosa hai visto? Ho visto una cosa che potrebbe tornarmi molto comoda. Quindi ora sarebbe molto intelligente prendere quella cosa e scappare via. Mi specifico il soggetto che ho però problemi a non capire soggetti del frasio. Ok, 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 chiudiamo qua. Oh no, 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 non te lo dico io. Non te lo dico. Non ti soggetto? Io sto prendendo la pietra. Guarda, siccome sono un bravo ragazzo, ricarico anche la mia respawn hacker. E la mia no? No, la tua no. Ho la, tutta apposta. Ah, aiuto, dico, una mano, una mano. Ma io ti dirò, non penso di darti una mano perché ti dirò ancora di più. Io sono messo bene, nel senso, ho già... Io ho due diamanti, ho dei picconi. Due, io ne ho tre diamanti. Ah, io ne ho tre. Volevi essere superiore da me. Comunque, comunque, comunque. Dove cavolo la trovo io il bastione? Ma qui non lo so. Ma questo è il bastione? Eh bro, come facci a tornare in Love World? Eh, trovi un po' tall'antico. E come lo aggiusti? Con il piccolo diamante, che puoi craftarti. Mm, ok, mi piace questa teoria, ma la mia è migliore, secondo me. Perché effettivamente... Mi sei dicendo che tu sei migliore di me. Su quello, purtroppo, mi spiace direto, ma non c'è dubbio. Però... Hai asma, tutto bene? Ti serve la bomboletta per gli asmatici? No, io sono loco a piacere. Mi serve una bomboletta per respirare acqua. Ti consiglio, nella vita di respirare dell'anidride carbonica. Potrebbe farti bene. Ma tu respiri azoto? Ogni tanto sì. Non sempre. Come ogni tanto? Io sempre, tutti i giorni. No, io dipende da... Ogni singola respirata che faccio è azoto. La tua invece? No, io ti consiglio di... No, niente. Allora, andiamo avanti. Non... Oh! Che è successo, Nico? Allora, praticamente... Hai spiattato? No, ieri era lunedì. Oggi è lunedì, volevo dire. Oggi è lunedì. Ah, oggi è lunedì, è vero. Domani è martedì e ieri era domenica. E quindi? Sì. E no, mi sono apporto in questo momento di questa cosa. No, è stata una realizzazione davvero... Wow. Buoni diamanti, se tu vuoi. Wow, 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 wow. Ho un problema di fondo. Ho un problema di fondo. No, ho un problema. Mi puoi dire, per favore, se l'oro è in grado di spaccare il ferro? No. L'oro non può spaccare neanche se stesso. Alexa, un piccone di oro può spaccare il ferro su Minecraft? Ecco una risposta che ho tradotto da reference.com. Ok. I piccone di legno o d'oro distruggono il blocco, ma non producono alcun ferro. Ho risposto a un po' di nonno. Ma che schifo. Sei stupido. Grazie per il tuo feedback. Ma ho detto che schifo. Vabbè. Che schifo. Eh, vabbè. Il feedback è uno schifo. Come ci arrivo io lì di preciso? Dove sei, Nico? No, no, no. Al portale ruine. Abbandonato. Oh, pure abbandonato. Al ruine. Al ruine portal, sì. Non trovo il modo di arrivarci. Sono un po' disperato, sinceramente. Però sto valutando varie opzioni. Tu dove sei invece? Sei ancora alla fortress? No, io sono stato sugli alberi. Mi sono andato con i diamanti e sono stato sugli alberi. Vado verso la foresta rossa. No, no. Ah, ma c'è un bastione là. No, no. Ti consiglio di non andare da quella parte. Ah, ma tu sei lì. Ho capito. Perché? Io ti consiglio di andare da un'altra direzione. E perché dove stiamo per il terro? Scusa. No, volevo dire l'oro. Però vabbè, è la stessa cosa. Dai. Come faccio a rompere l'oro? Eh, con i piccoli diamanti che puoi craftarti. Ma non ho più i diamanti, poi. Eh, cosa stai fai altri diamanti, scusa? Il PVP. Perché ci sono dei blocchi? Dei blocchi. Allora, qui davanti a me. Blocchi di legno lavorato. Blu. Ah, no. Che spawnano naturalmente. Ah, proprio attaccate un bastone che fa un pillaro. Sì, sì, sì. Dall'ultima versione spawnano blocchi blu. E perché non hai fatto gli achievement? Gli achievement? Gli si tolti? Io? No, no. Non dire così. Non dire così. Dove sei? Gli si tolto gli achievement? Brutto schifoso, lo sapevo che eri qua. E' qua. Brutto schifo. No, non mi farò urlare che finisco la voce. Non mi farò urlare che poi finisco la voce, ti prego. Dai, non mi devi toccare, brutto schifoso. È il mio passione, quello. Dai, mi hai fatto urlare, adesso mi sento senza voce. Mi sento senza voce, non ci posso credere. A volte nella vita non si può, cioè nella vita non si può avere sempre quello che si vuole. Ti sei tippato da me comunque. Tippato da te? Sì. Ma se c'era il bastone, sei morto nella lava. Non è vero. No, non è vero. C'era il bastone gigante che ho visto dagli alberi mentre facevo la scimmia. Avrei pure il bastione, ma non hai la vittoria, sappilo. Io mi sono fatto le cose in oro, così almeno mi attacchino i piglin. Oh, wow. Hai fatto una giocata davvero pazzesca. Tu invece no, ma schifo. Fattelo dire. Dove cavolo? Ma hai chiuso il percorso? Ma che... Sì, per salire ho fatto un pillar, tipo. Ci sono i brutti, i brutti. Ma c'è la lava. Ma guardate la vita che cosa è diventata. Io non lo so, guarda, ogni tanto sono sciocco basito. Solo ogni tanto però. Eh, no, mi è caduta addosso la lava. Brucio. A volte nella vita può capitare. Sto bruciando. Che succede? Tutto bene? Dai, dai, va tutto bene. Per nulla bene, per nulla bene. No? Perché no? Mucho male, mucho male, mucho male. Cadi. Cadi. Giù. Caduto. No, 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 no. E sono morto, addio. A posto. Meglio così. Uh, no, tu non sei bravo, tu sei odioso. Non ti vuole nessuno nella vita, potresti benissimo ucciderti, ciao. Ma sei... Oh, sei morto. E ci rincontrami insieme qua. Ma perché mi picchi? Ma non lo so, sei tu che mi hai picchiato per primo. Non è vero. Guarda che la tua respawn anchor se finisce sei fallito, eh. Ecco sei fallito. Mi sa che è finita l'ultimo era. Non lo so. Non ancora due. Ti l'hai ricaricata, brutto scemo. Ah. Mi hai salvato la vita. Beh, quel paese. Ti prego, dimmi che c'è. Uff. Meno male. Meno male. Che cesta è aperto? Quella in fondo o quella in cima? Uff. 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 Ti piace il uff? Come il suono? Uff. 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 È il cagnolino tipo che fa uff. Uff. È un cagnolino. È un cagnolino. Non volevo dire proprio quello, però va bene. Ok. Sì. Se vuoi. Io posso fare sta cosa. Mamma mia. Mamma mia. What did you found? Tu non hai idea. Tu non hai idea assolutamente. Dimmi cosa hai trovato. No. Come cover me with diamonds? Tu non hai mai completamente idea. Ma hai lottato la cesta dentro il bastions? Eh. A quanto pare sì. Hai già preso tutto il treasures? Siccome sono gentile ti lascio un po' di oro. Grazie. Molto gentile, eh. Davvero. Vai tranquillo, vai tranquillo. Meno male che ci sei tu. Eh. Sì, sì, sì. Meno male, vero? Meno male. Ti prego. Scappo! Scappo! Allora, però, la vita, come ben sai, ogni tanto ti regala delle emozioni davvero uniche. Davvero spettacolari. La vita è senza mo' e dimmi tu che vita è. Esatto, proprio così. Io posso farmi. Allora, facciamo così. Poi facciamo così. E già siamo messi benone. Facciamo anche così, dato che ci usiamo. Che almeno è più potente. Poi faccio... Ah, quando esci dal Nether non puoi craftare nulla, eh. Nulla di nulla. Ok, va bene, va bene, va bene. Così, poi mi faccio anche... Mi serve più legna, porca miseria. Mi serve assolutamente più legna. Ehm... Devo correre e prenderla. No! Ok, non devo urlare che altrimenti finisce la voce, Nico. Per favore. Io sto scambiando con i piglon. Sì? Bravo. Bravo. Grazie, gentilissimo. No, no, bravo, eh. Hai fatto proprio quello che dovevi fare. La scelta è giusta. Ma basta che tu non mi uccida, perché io sono gentile con te. No, no, guarda, io faccio così addirittura. Va bene? Così sai che sono lontano da te. Ma perché tu hai dovuto fare una cosa del genere? Perché almeno se lo sai che sono lontano da te non ti fa piacere questa cosa? No, per nulla. Ho paura di più di prima. Come mai? Perché non so cosa tu sta pensando in questo momento. Non avere paura. Andrà tutto bene, eh. Tutto. Tutto alla grande. Alla grande come tu non hai mai pensato. Tossidiana come sei messo? Ne ho una. Una? Sì. Solo una? Adesso tre. Oh, bravissimo. A me ne ho cinque ancora. Non so come fare. Eh, ma dove le hai prese quelle cinque? Ah, no, hai ragione. Sono già nell'overworld. Non importa. Eh, non hai fatto achievement. E non c'è l'achievement quando torni nell'overworld. Sei già nell'overworld, davvero. Sì, 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 sì. È impossibile. Sarò nell'overworld? Impossibile. Giuro, lo vedi dal video. Vi devo vedere una foto? È impossibile che succederlo. Allora io aspetto, io farmo con calma, tutto quello che devo fare. Eh, sì, sì, tra due minuti di tipo, non hai capito. Anzi, ti vengo a aspettare, guarda. Mi prendo queste coordinate e vengo da te. No, no, ti sto guardando in spectator. Ah, Nick, io mi sto per andare a questo posto. Bene. No, perché il tempo sarebbe anche finito da un po', eh. Quando hai voglia ucciditi. Eh, non posso uccidermi, ma ho bevuto la pozione di... Guarda, ci penso io, kill, vuoi morire? Sì, uscidermi, grazie. Ah, posto, nessun problema. Intimissimo. Guarda dove responi, guarda cosa c'hai fianco. Allora, prima, prima, prima di partire, devo fare una cosettina veloce veloce. No, Nick, ho bisogno che ti muovi. Aspetta, devo costruire. Non so già cosa vuoi fare. Cosa voglio fare? Cosa vuoi farti con la nederite? Ho visto prima l'advancement. Ah, 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 ah. Ti fai i piedini di nederite? No, la spada. Prego, appena varca il portale, è ufficialmente finita. Cioè, nel senso, è già vinta da me, però c'è il pvp. Allora, se tu mi hai circondato, perché sei in caverna? Eh, sono spawnato anche in caverna. Vabbè, volevi craftarti. Cosa ha quella spada di incantamento? Looting 1. Ok, va bene. Vai, quando vuoi, sono pro o no? E vieni allora, forza. Scusa, c'è una peccorim... Anche tu, eh? Anche tu vuoi giocare col fuoco, eh? Anche tu, anche tu. Vuoi dare fuoco alla foresta, per caso? Aspetta, Nico. No. Speriamo un attimo. No, no, pensiamo cosa c'è là. Quale cosa c'è là? Una casa. No! Brutto schifoso. Mamma mia, che male, che male, che male, che male. Guarda che sei davvero un fallito, eh. Cioè, davvero fare così è proprio da falliti. Proprio con la F. Non con l'H, eh. Guarda che va sott'acqua per mangiare. Sei davvero incredibile. Perché mi hai tolto nove cuori con un hit? Bro. Non lo so. Io avevo nove cuori, Nico. Tu mi hai one-shotato. Bro. È impossibile. Mi hai one-shotato con Nico. Hai citato in qualche modo? Non ho citato. Avevo nove cuori. Ragazzi, anche da malato, dalla colpa... No, ma... Ma hai citato. Avevo nove cuori. Ero fu un diamante. Non mi parla. Non è che magari l'ho citato quattro volte mentre si sta bevendo la pozzina. No, no, no. Ma tu ho già originato tutto. Avevo la mela d'oro. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. L'ho coperso, come sempre. Buon Natale a tutti. E felice anno nuovo. Guarda, sono bianco come una gallina. Guarda qui. Guarda, siamo uguali.